Vita vecchia, ieri, o comunque ieri, con una BMW M4, non è questa la foto, questa è una foto di giugno, ovviamente estiva, però siccome c'è il video di fanpage è difficile poi dopo identificarlo, c'è stato un investimento, io solidarizzo con quelli di ultima generazione nella misura in cui questa protesta va davanti, perché comunque l'emergenza climatica è emergenza, è come uno sciopero, come lo sciopero dei trasporti, se non crei disagio alla popolazione nessuno parla di te, allora in qualche modo noi parliamo di ultima generazione appunto perché butta la vernice nella fontana di Trevi, tra l'altro lavabile perché blocca il traffico, blocca le strade, crea disagio alla popolazione fattivo, anche la polemica sull'urgenza lascia il tempo che trova, ci sono strade secondarie, bisogna che qualcuno ovviamente debba entrare nel, cioè entrare, controllare che non ci siano urgenze, è passata una macchina con un drappo bianco, però gli altri stanno fermi, creano disagio, creano problemi, ti licenzierà il datore di lavoro, rimarrai a casa, problemi tuoi, chiediti, domandati il buco dell'ozono, domandati il Big Bang, domandati tutte queste cose, domandati l'inquinamento delle sostanze fossili, questa è l'urgenza. Adesso voglio dire, però paradossalmente l'M4, la BMW M4 sfreccia, imbarba il consumismo del turbo inquinamento, della turbodinamica e investe due attivisti, tra l'altro avrà delle conseguenze legali perché comunque ha creato un danno fisico a questa persona che manifestava liberamente, chiaro?